Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Quanto tempo era che non portavamo uno showcase di Xenoverse 2, tantissimo veramente. Oggi siamo qui per portare Rygor, una nuovissima mod, non è quello che conoscete tutti quanti insomma, e Cooler del pack, l'ascesa di Cooler del mio amico di Afe. Sono contento di riportare i showcase, vi informo anche che sta continuando la serie della top 50 mod di Xenoverse 2, 100 mod scusate, solamente che penso di dividerlo in due parti, così almeno una parte già ve la faccio uscire, dalla posizione 100 alla 50, e poi le altre insomma le vedrete prossimamente. Comunque, detto questo, prima di iniziare, se volete acquistare felpi, action figure, magliette o accessori per cosplay a prezzi scontatissimi, vi consiglio di fare un salto su Beautyful Halo. Tranquilli ragazzi, le spedizioni sono comunque puntuali, nonostante ci sia questo maledetto problema del corona. In più, se acquistate qualcosa che supera tot di spesa, utilizzando questi codici sconto, riceverete un ulteriore sconto. Detto questo, direi di iniziare. Prendiamo Rygor, non ho voglia di ritornare laggiù, quindi prendiamo Vegeta, e proprio sfidiamo il nostro fratello, secondo il fan manga, ovviamente. Questa mod non l'ho provata, non ho visto nessun video, nulla di tutto ciò. Ve l'avevo detto comunque, sarebbero ritornati showcase, un po' mi mancava. Custom è entrata, e ci sta... Ok, adesso, moveset. Tarles, custom, c'era anche un po' di Bojack, no, quello era... Attenzione, qua c'è tutto veramente. Allora, Tarles, poi questo qui mi sembra più Omega Sharon, di nuovo il calcio di Tarles, e no, questo è Cell pure. Lo schiaffone finale così è Cell. Ok. Questo credo sia più Cell con la combo di triangolo. C'è anche il CAC, c'è anche qualcosa del CAC terrestre... No, Saiyan, Saiyan, Saiyan. Mamma mia, tantissimo che non gioco, quindi devo riprendere la mano un po' con tutto. E vedete, anche questo è Cell. Il calcione quello là piegato così, ecco, Super Saiyan 4 quello. Delle combo, quelle customizzate. Ok, vediamo un po'. Uh, ci sono anche le custom combo. Guardate che figata, però. Io adoro le custom combo, cavolo. Questo è il CAC, anche questo. C'è l'ultima, che è questa. Uh. A me piace tantissimo questo attacco finale di Gogeta. Molti no, sicuramente, perché dicono, vabbè, sono l'ondine dello stronzo. Però è proprio il modo in cui le lancia, cioè che gli appare davanti e poi le spara tutte così assieme. Adesso proviamo le skill. Divine Charge. Bella l'animazione della trasformazione di Super Vegeta. Abbiamo Evil Crash, credo sia un impeto, appunto. Bellissimo. Non schianto per meteorite rosso e nero. Ah, baglino sulla coda, però. Ci può stare. Divine Flash. Bello. Bello. È un piccolo recolor del lampo finale di Super Baby Vegeta 2. Evil Big Bang Attack. Era solamente un piccolo recolor del lampo finale di Super Baby Vegeta 2, però ci sta, secondo me. E poi abbiamo il Evil Big Bang Attack. Oh. Bello, nero e arancione. No, rosso. Mi sembrava nero e arancione all'inizio. Aspetta, me lo voglio vedere. Sembrava arancione, però, eh. Vi giuro che sembrava arancione. È un rosso chiaro, ecco, perché l'avevo scambiato per questo, probabilmente. E vabbè. Adesso. Eh no, prima ci trasformiamo, prima della mossa finale. True Super Saiyan 5. Ehi. Signore. Oltre all'animazione che è una figata, c'è anche l'animazione. C'è anche l'aura del Super Saiyan 2, che figo. Scusate, ma non c'è una trasformazione in più sul Rigor. Proviamo un attimo a vedere, raga. Eh, mo c'è True Super Saiyan, vedete? Ok. Trasformati. Uh. Cavolo, ce sta come trasformazione. Poi qua abbiamo True Super Saiyan 4. Che figo. Sembra proprio Vegeta, comunque. È fatto bene. Non intendo, cioè sì, il mod era fatto un bel lavoro, però intendo proprio l'idea di crearlo e dargli un volto praticamente uguale a quello di Vegeta e una genialata. Perché non ci assomiglia, ma quando si trasforma, sono uguali. Fateci caso. Adesso, raga, mi ritrasformo e voglio rivedere l'aura del Super Saiyan 5, perché è veramente tantissima roba. Ah, non sono riuscito a fare... a mettere la modalità foto nel momento giusto. Dicevo mettere la modalità foto nel momento giusto. Vediamo così. Ok. Vorrei farci un bello screen, così. Guarda che figata, cavolo, raga. È una figata, cavolo. Nera e giallo. Che poi, giallo e nero, colori del Borussia Dortmund, si abbinano bene assieme come colori. Ecco che ci hanno. Comunque, adesso buttiamo l'evasiva che... No, dai. Come colpo di rottura. Voglio vedere se il moveset cambia almeno. Oh, oh, oh. Cos'è? Ma è una figata. A me piacciono questi moveset velocissimi. Ecco, un po' meno quando si ripetono le animazioni, però. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Custom combo. Sembrano, diciamo, proprio delle combo per far male, queste. Non sono delle combo per essere belle esteticamente, ecco. Guarda che figata. Queste sono fatte per far male, raga. Non per essere belle esteticamente. Anche se questa è caruccia, eh. Lo devo dire. Mo' voglio arrivare a uno, due, tre, quattro, cinque... Ah, sempre questa, eh. Perfetto. Pensavo che dopo il salto ci fosse qualcos'altro. Ok, proviamo dopo questa. Ah no, fa proprio tutta la combo del triangolo. Ok, vabbè, so queste le combo. La presa non l'ho provata. Broly, tranquilla. Deadly Flash. Proviamo sta Suprema, va. Cos'è? Sembra l'attacco di Dodoria. Cioè, salta in alto e fa tipo l'attacco di Dodoria... Prima di lanciare tutte quelle sferete. Bam. Vabbè. Ma alla fine è una mod giusta, eh. Perché i danni sono quelli. Cioè, i danni di una Suprema base del gioco. Vabbè. Adesso direi di andare a provare Golden Cooler. No, Golden Cooler. Ascension of Cooler. Portiamoci contro il piccolo Post Boy. Che non ha niente di speciale. Semplicemente con il vestito dell'episodio in cui lui e Goku cercano di prendere la patente. Tantissima roba, veramente. Quelli sono i filler che mi piacciono. Ok. È entrata normalissima. Nessuna custom roba. Il modello, tra l'altro, non è quello del gioco. E ne sono anche abbastanza sicuro. C'è qualcosa di diverso. Probabilmente è quello del revampack di Goketer. Non lo so. Ok. Adesso, moveset. Cooler. Scontato come a che. Non puoi scordarti un moveset così bastardo per il competitivo. Comunque. Qui abbiamo le mosse. Divinità sbloccata. La carica. Distruttore ombre. Sappiamo che deve farci una mossa addosso. E adesso ve la farò vedere. Ok. No. Ma come attacco speciale 1 gli ho messo? So stupido, scusate. Ok. Vedete? Gli passa di dietro. Se magari me la rifà. E sbam. Cazzottone. Tanti utilizzano questa mossa decentemente. Vabbè, ma alla fine tutte le mosse del Xenoverse sono forti. Devi essere capace a usarle. Semplice. Come qualsiasi gioco. Combo letale, combo diamante. Questa è la combo letale che è quella di Super Baby Vegeta 2. E si può fare anche in modo diverso. Eccola ragazzi, fermandola in questa maniera. Poi di qua abbiamo Raggio Letale. Boh, non credo ci sia qualcos'altro. La Super Nova, vediamola un po'. Questa è la Super Nova Cooler. La conosciamo tutti quanti. Uh, il colore è diverso però. Più giallognola. E poi abbiamo il Lampo Letale. Lampo Letale sarebbe la doppia domenica di Radish. Sicuramente cambia con la trasformazione. Poi finto colpo che è palesemente la mossa che utilizza Cooler per scappare da Goku Super Saiyan e preparare la Super Nova Cooler. Adesso però io vado ad abbassare Laura perché ho paura che ci sia qualche altra trasformazione. Ok raga, proviamo a vedere la nuova trasformazione. Ma è sempre Cooler Diamante, quindi... Ah, devo arrivare a 5? Buono, è anche bilanciata come cosa. Eccolo qua. Cooler Diamante. Bellissimo. Bellissimo. Sembra un Golden Cooler qualsiasi. Ma fidatevi che è Laura che ci sta sopra. Porca troia. So, so che è un miscuglio tra quelle del Super Saiyan Blue e qualcosa, ma vi giuro che è così figa. Proviamola un attimo. Vabbè, le combo sono custom, ovviamente. La pesantezza proprio quando lancia sti attacchi. Sono custom di poco perché il moveset rimane quello. Però vedete che si ferma una certa quando dai i pugnazzi quelli cattivi e le ginocchiate. Soprattutto perché quelle sono quelle di Bojack. E vabbè, le custom combo rimangono queste. Questa cambia. Infatti diventa quella di Bojack, vedete? Però vi invito a guardare una cosa. Guardate la mano. Cioè, anche l'esplosione d'aura, ecco, è diventata dello stesso colore di Cooler. Tanta roba questa mod, è veramente ragione. Adesso proviamo le mosse qui di nuovo Distruttore Ombra. Raggio Diamante, che ho sbagliato, ho fatto di nuovo Distruttore Ombre. Uh, carino, carino. E' del colore semplicemente di Cooler e del Diamante. Preso proprio un bel momento perché è piccolo. Ti frullano molti ricordi in testa. Basta darci al cringe, abbiamo la combo Diamante. Che credo sia la stessa cosa. Ah no, ok. E' quella di Gohan. Semplicemente. Ci sta però. E adesso abbiamo il Lampo Diamante e la Nova Diamante. Finto colpo credo rimanga quello, no? Sì. E adesso eccolo qua. Lampo Diamante. Pam. Del colore del Diamante, semplicemente. E infine la Nova Diamante. Sì, però la divinità sbloccata, ragazzi, è molto lenta come carica. Non mi piace. Proprio considerazione personale. Nova Diamante. Ah! E' blu con... Cioè, blu intorno e rossa al centro. Come una stella, cavolo. E' proprio, cioè, una supernova in sostanza. Dove il fuoco è più acceso è blu. Oppure è contatto con lo spazio, diciamo, figata. Mi piace, mi piace. Niente ragazzi, la mod è una figata. Io ho preferito Raigor, ma perché ho un po' il debole per Raigor, diciamo così. Però anche questa è bellissima. Veramente tanta roba, raga. E... Ah, ecco. Qua la combo cambia. Cioè, il grab, diciamo, cambia e diventa quello di Cooler. Se dovevo fare una cosa oggettiva avrei scelto Cooler, ma qui siamo sul mio canale. E niente, direi da andare a giocare in 1-1 contro 1. Ed eccoci qui, raga. Raigor contro Cooler. All'osservatorio del Supremo. Oddio. Non capisco l'entrata custom perché vado a zoomare sul pacco. Però... Non lo so, è una cosa molto funny, secondo me. Trasformiamoci nel Super Saiyan. E questa è semplice, ma figa. Mi sa proprio che è cattiva sta trasformazione, perché non c'ha gli occhi come tutti gli altri Super Saiyan. Bensì sono rossi. Figata. Ok, Super Saiyan di quarto livello. E beh, che ce mancava, secondo te, che andavo a utilizzare il quarto livello per trasformarmi? Ah, merda. E adesso, Super Saiyan di quinto livello. Sbam. Sì, mi mette il pugno per terra, ma per terra non c'è niente. Finiamolo, va? Madonna quant'è che non gioco a Xenoverse ogni tanto, vi giuro, mi esce. Taglierò sicuramente un sacco di parti in uno showcase. Dicevo, mi esce di giocare come Dragon Ball Kakarot. Sembro un cretino, veramente. E adesso qua, metto l'HUD, tolgo l'HUD e lo finisco in questa maniera. Comunque, avevo pochissima vita, veramente, raga. E niente, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero che vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se ho ancora fatto un'integrazione della campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video plus ultra. Noi, come al solito, ci vediamo.